L'informazione e la sensibilizzazione sulla fibromialgia sono tra i compiti principali dell'Aesf, l'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica. Si è fatto il punto proprio su queste attività qui a Milano in occasione del XX Congresso Nazionale. Noi ci facciamo raccontare un po' le cose più recenti e più interessanti da Milania a Spataro, coordinatrice dell'Aesf per il centro-sud. Senti Milani, incominciamo con la cosa che mi è sembrata più interessante e comunque che può essere immediatamente disponibile per tutti, che è la app che prende il nome di Fibromialgica. Che cos'è esattamente e quali vantaggi dà le persone che la scaricheranno sul loro cellulare o sul loro tablet? Sì, allora Fibromialgica è la prima piattaforma online che abbiamo creato proprio per aiutare il paziente fibromialgico a sostenerlo, che possiate direttamente comunque collegarvi sia da un pc o da uno smartphone. L'importante è che ovviamente attiva una videocamera, quindi ovunque siete potete collegarvi. Dentro Fibromiapp ovviamente sono presenti numerosi medici tra di cui l'algologo, l'avvocato, lo sportello delle consulenze legali, appunto il nutrizionista, lo psicologo. Poi abbiamo creato anche uno sportello delle relazioni proprio perché c'è questo conflitto tra la fibromialgia e le persone che non riescono pure a essere comprese da parenti, amici o familiari e anche uno sportello di gravidanza e maternità. Quindi ovviamente grazie all'aiuto di questi medici Fibromiapp esiste, grazie a questo. Oltre alle consulenze che potete prenotare, dentro Fibromiapp trovate altre icone da cliccare che sono una libreria che sarebbe una raccolta di video tutorial e anche dei webinar, delle live che appunto danno informazione e sostegno al paziente e poi anche delle autovalutazioni. Sono degli importantissimi questionari che possono appunto gestire direttamente il paziente dove si evidenzia l'andamento della tua malattia e poi questi questionari li puoi trasmettere direttamente al medico di medicina generale. Quindi Fibromiapp è una grande risorsa, soprattutto se siamo i primi in tutta Italia a comunque avere questa piattaforma online. È presente sul nostro sito che è appunto l'uscito che è www.sindromefibromialgica.it e ovviamente è aperto solo ai soci, quindi ovviamente vi invito prima di tesserarvi e poi fare questo consulto e prenotare il consulto appunto con i vostri medici. Senti Melania, suppone che io sia una persona interessata a Fibromiapp, cosa devo fare? Devi innanzitutto tesserare, quindi vai sul nostro sito www.sindromefibromialgica.it e inserendo la login e la password puoi direttamente accedere su Fibromiapp. Tutto chiaro? Senti, invece passiamo a una veloce carrellata delle tante attività di sensibilizzazione che fate un po' in giro per l'Italia. Ce ne dici qualcuna? Sì, quelle ovviamente più richieste in questo momento comunque che molti, sia le nostre pagine dei social, Facebook, Instagram e anche le migliori testate giornalistiche ne hanno parlato, è Il nostro dolore merita riposo, che è una campagna di sensibilizzazione dove appunto mettiamo in luce una panchina che viene pitturata di viola grazie all'aiuto del lavoro straordinario delle nostre referenti locali e dell'amministrazione comunale che chiediamo appunto l'autorizzazione di questa panchina, quindi questa visibilità. È stato bello pure la partecipazione non solo delle referenti, comunque delle sezioni, ma anche di soci che non hanno una sezione di appartenenza che hanno comunque contribuito affinché nel loro paese ci sia appunto questa panchina. Altre importanti campagne appunto di sensibilizzazione sono la giornata mondiale della fibromialgia il 12 maggio, che abbiamo appunto anche inserito una campagna solidale delle piantine, quindi che siamo presenti in molte piazze in Italia con l'esposizione di queste piantine. E poi altra ancora le campagne solidali, è da due anni che noi comunque siamo appunto aperti a questo tipo di campagne, sia della vendita di panettoni che colombe pasquali e ovviamente il devoluto è andato alla campagna Ufficina Gioveni per la Fibromialgia, un altro progetto che porta avanti AISF. Quindi scriviamoci all'AISF? Sì, sicuramente. Scrivete ad AISF, vi collegate sul sito e soprattutto poi dovete trovare la sezione di appartenenza e chiamare appunto anche noi, il Meo, che ci sono tutti i numeri e i contatti sul nostro sito.